Allora, buonasera a tutti quanti e bentornati. Con me c'è ormai un ospite che conoscete, chiamati tutti, il colonnello Orio Giorgio Stirpe. Quindi volevo subito cominciare, diciamo, spaccando il ghiaccio, no? Perché la gente è abbastanza preoccupata rispetto a quello che è successo oggi, l'attacco messilistico, che è ovviamente una rappresaglia rispetto a quello che è successo con il ponte. Già noi in antecamera di live parlavamo proprio di questo e vorrei che tu ripetessi la lettura di quell'attacco, anche perché un pochino è a Kiev, ma il resto ha abbastanza senso dal punto di vista militare, giusto? Sì, è più una risposta strategica con valenza politica che non una risposta militare con valenza operativa. Il discorso è che dovevano assolutamente reagire in qualche modo. L'attacco al ponte era, oltre a essere un brutto colpo militare, era anche un affronto dal punto di vista politico. La risposta doveva assolutamente venire. Che sia rimasta leggermente ritardata dimostra che non erano preparati a farla. È stata la decisione dell'ultimo momento di sferrare un attacco a pioggia sulle città ucraine, dello stesso stile con cui lo facevano nei primi giorni. Nessuno di questi attacchi è stato una novità, perché erano attacchi già effettuati in precedenza, quindi non possiamo neanche parlare di escalation. È un escalation dal punto di vista comparativo o parziale, perché di fatto gli attacchi erano diminuiti, ma erano diminuiti non per una de-escalation, ma perché mancava il munizionamento. Probabilmente i generali russi non sono neanche rimasti molto soddisfatti di questa soluzione, perché hanno dovuto spendere parecchio munizionamento avanzato per questo attacco. Però va anche detto che questa volta i bersagli sono stati scelti un pochino più a modo. L'attacco alle centrali elettriche, per quanto antipatico, doloroso, possa far arrabbiare, ma è un attacco assolutamente legittimo, che non può essere contestato dal punto di vista etico. Meno legittimo quando i missili vanno fuori bersaglio, però sappiamo che i russi fanno errori e non sono necessariamente crimini. Quindi questa reazione è violenta, era probabilmente prevista dagli ucraini, ha una grande valenza visiva, mediatica, ha una qualche valenza politica, perché è una risposta, indubbiamente, dal punto di vista militare non ha praticamente effetto, anzi gli ucraini possono segnare via un certo numero di missili russi che si aspettavano di dover affrontare e che ormai sono stati spesi. E il fatto che hanno colpito il consolato comporterà qualcosa? All'è colpito il consolato può essere visto in due modi. Può essere visto un iniziale messaggio mandato agli Stati Uniti, più che ancora alla Germania, ricordandogli altri episodi di una ventina d'anni fa, 23 anni fa a Belgrado, la famosa ambasciata cinese. Più in generale è l'equivalente di quello che purtroppo noi in Italia conosciamo come un avvertimento mafioso. Attenzione che vi teniamo d'occhio e possiamo fare male anche a voi. Probabilmente va anche visto in congiunzione con quanto è accaduto alle ferrovie tedesche 48 ore fa. Ok, riguardo le modalità dell'attacco del ponte, visto che ne parlavamo, non è che cambia molto la modalità con cui sia stato fatto. Intanto è un segnale per i russi, il fatto che è vulnerabile, credo che sia un punto debole proprio per Putin, anche di orgoglio, visto che lo aveva inaugurato in pompa magna e rappresenta per la logistica una cosa insomma abbastanza importante, se no sono costretti a fare il giro da sopra con l'altra ferrovia che è molto più esposta anche al tiro degli Aymars e a rischi insomma di… Passa almeno di 20 km dal fronte attuale. Esatto. Il tiro dell'attivieria. Quello che è interessante è il messaggio, perché qui si aprono degli spirali di punti critici tra diciamo gli ucraini e anche gli americani, cioè il discorso degli Atacams è un discorso dove i bersagli prima non li volevano mandare per tanti mesi, poi hanno detto che li mandiamo ma concordiamo i bersagli. Ora non si sa se li hanno colpiti con l'Atacams, se sono stati i barchini, se è stato il camion o cosa del genere. Quello che a me interessa è quei discorsi strani che fanno gli americani che cercano di far pervenire anche ai russi con il discorso di Blinken per quanto riguarda la dughina, cioè dire noi con la dughina non c'entriamo niente, se sono stati gli ucraini noi la cosa non l'abbiamo avvallata e quindi sappiamo quali sono le vostre linee rosse e noi non le vogliamo superare. Il ponte è evidentemente una linea rossa per i russi e mi sembra che gli americani non volessero arrivare a questo livello. è un problema di frange estreme da una parte e dall'altra, nel senso gli ucraini, sapendo che i russi potrebbero arrivare alle tattiche, lì probabilmente l'Europa vacillerebbe, anche per un discorso di disparità, perché i russi ne hanno circa 2000, noi ne abbiamo 100 in Europa o una cosa del genere, quindi c'è un problema anche di potenziale. Non è che tentano di elevare il gioco proprio per tirarci dentro e mantenere l'appoggio, perché quello che vedo io, poi ci sarà molto da discutere sul fatto che sia da una parte sia dall'altra, col parallelismo, non di cui si parlava, ma se vuoi dirlo te della Seconda Guerra Mondiale, sono quelli più cauti, quelli insomma più esperti, che sanno il loro mestiere, sanno che la guerra è persa e quindi quelli che vengono fuori sono quelli più estremisti, Kadyrov, Prigojin, i generali che vengono nominati, guarda caso sono proprio quelli più fanatici, il macellaio di Mariupol, il generale Armageddon, queste cose qui. Quindi secondo te questi fattori qui rischiano di, io ho usato il titolo della live, l'orizzonte degli eventi, perché l'orizzonte degli eventi è dove praticamente da lì non si sfugge, ecco da lì non si sfugge, non si torna indietro, ecco. Secondo te siamo a quel punto lì, c'è il punto di non ritorno, nel momento in cui si arriva a quel gradino o non ci si arriverà? No, secondo me, no, oddio, non posso dire che non ci si arriverà, però di sicuro non ci siamo ancora arrivati. Per quanto importante sia il ponte, è pur sempre un'infrastruttura legata alla Crimea che in ogni caso, i russi sanno benissimo, nessuno al mondo, tranne la Corea del Nord, riconoscono come territorio russo. È vero che la collega al territorio russo, ma è anche un obiettivo militare assolutamente legittimo dal punto di vista del diritto internazionale, perché è una ground line of communication, una linea logistica fondamentale per le operazioni ed è assolutamente un bersaglio militare legittimo. Colpirlo non è terrorismo, colpirlo è un'azione di guerra, che ovviamente comporta vittime, apparentemente neanche tante, e francamente trovo difficile che gli ucraini l'abbiano organizzata contro la volontà americana, perché la Corea innanzitutto avrebbe conseguenza se lo facessero, subirebbero una riduzione di cooperazione che assolutamente loro non vogliono. Annullerebbe completamente il vantaggio ottenuto con il bombardamento del ponte. In secondo luogo, non credo che quella appunto sia una linea rossa riconosciuta dagli americani. I russi ne hanno già segnati parecchie linee rosse che sono passate senza nessun problema. Gli oblast di Belgorod e Bryansk e anche di Rostov sono stati violati più di una volta, non solo con bombardamenti, ma anche con violazioni territoriali effettive delle truppe ucraine. E non è successo niente. Quindi ci sono linee rosse che vengono prese sul serio e linee rosse che non vengono prese troppo seriamente perché diciamo che i russi ne abusano un po'. È tutta una linea rossa per loro. Dal loro punto di vista qualsiasi operazione militare adesso sarebbe una linea rossa perché avvengono tutte dal punto di vista della legge russa sul territorio russo dopo le annessioni. Quindi non avrebbe neanche più senso parlarne. Non credo quindi che siamo a un punto di non ritorno assolutamente. Siamo a un punto in cui Putin ha rischiato, se rischia ancora, di perdere la faccia di fronte ai suoi più fedeli sostenitori che cominciano a distaccarsi e a diventare più estremisti di lui. Più putiniani di Putin potremmo dire. Questo è un pericolo per tutti, ma soprattutto è un pericolo per Putin. Noi torniamo sempre al problema che è vero, sono sempre gli estremisti quelli che prendono più potere nel momento in cui un regime va in crisi, però non è detto che gli estremisti non cerchino anche loro una soluzione pacifica. Il Prigozin non risulta essere uno stupido e quindi francamente non penso che abbia in testa che se le cose vanno come dice lui si fa un'ulteriore escalation, perché lui sa benissimo che non esiste un'ulteriore escalation disponibile, a meno di un conflitto nucleare che non è assolutamente contemplato dall'elite russa, perché non li porterebbe a successo, li porterebbe a una soddisfazione morale in qualche minuto e basta. Quindi la possibilità esiste che pur avendo velleità magari anche più estremiste di Putin, Prigozin potrebbe avere semplicemente idee di salvare i suoi affari, i suoi interessi, la sua personale posizione e non necessariamente quella di Putin. Non credi che nella possibilità in cui sparano un paio di tatti che gli ucraini sono da soli? Cioè nel senso non possono rispondere a questo genere di mossa. È vero che i russi hanno tutti i problemi del caso, però cosa potrebbe fare l'Occidente per aiutarli in quel caso? Io non credo che nessuno dei paesi europei sarebbe disposto a fare una risposta diciamo parallela in quel caso lì e potremmo anche, cioè nel senso non è nella Nato l'Ucraina, quindi che succede se i russi sparano una tattica in territorio ucraino, noi non possiamo rispondere con loro. Dipende veramente dall'obiettivo scelto, perché se per esempio facessero esplodere delle testate in alta atmosfera sopra il territorio ucraino senza generare distruzioni di massa, ma semplicemente creando i famosi effetti elettromagnetici che zittiscono tutti quanti gli strumenti elettronici per un po', in questo caso potrei essere d'accordo con te. Se invece dovesse distruggere Kiev, estremo opposto della possibile banda, non credo che ci sarebbero dubbi che è questione di minuti prima che venga vaporizzata una città russa equivalente. Il motivo è che a quel punto lì saremmo al di là del conflitto ucraino, saremmo nel campo della deterrenza nucleare strategica e un attacco di questo genere non sarebbe tollerabile perché creerebbe un precedente che magari verremo a pagare tra 50 anni, ma lo verremo a pagare. Dal punto di vista di Putin il precedente esiste già, da come racconta lui la cosa, nel senso già gli americani avevano utilizzato questo sistema durante la seconda guerra mondiale, te ne lancio una, non ti arrendi, te ne lancio due, ti arrendi, loro potrebbero fare lo stesso, non devono per forza colpire delle truppe o colpire una città, devono far vedere che sono disposti a farlo e cercare di portare i due ucraini sul tavolo, senza nemmeno allarmare troppo, c'è una via di mezzo tra utilizzarla e non utilizzarla, cioè fa vedere che sono disposti all'utilizzo ma ancora non vogliono colpire nulla di veramente stannoso. Torniamo al discorso, dipende cosa colpiscono, perché se la utilizzano da un punto di vista puramente militare, in una zona dove colpiscono solo unità militari, ottengono un risultato militarmente minimo, che non serve praticamente a niente, li mette dalla parte sbagliata del bilancio morale dal punto di vista di tutti, compresi i cinesi, che sono stati molto chiari su questo argomento, e da questo punto di vista qui sanno anche già qual è la risposta, perché gli è stato detto che in caso di provocazione nucleare a basso livello, a bassa intensità, la reazione della Nato è immediata e convenzionale e avrebbe probabilmente anche un vasto sostegno da parte dell'opinione pubblica. Perfino, ripeto, di quella cinese. E i russi si possono permettere un grosso danno convenzionale in cambio di una parvenza di escalation che non gli frutta niente militarmente? Io sono convinto che a questo punto sono i militari a mettere il veto, qualsiasi cosa ne pensi Putin. Quindi no, non ci credo. Aggiungerei però che qualunque sia la risposta della Nato in questo caso, in realtà non è che chissà quale sarà. La risposta è già stata decisa, solo che noi non lo sappiamo. Dal punto legislativo noi possiamo? Cioè la Nato può intervenire se un paese X spara sui paesi Y e quel paese non fa parte della Nato? Nel campo della deterrenza sì, purché non sia una sorpresa. E i russi sicuramente sono stati perfettamente informati di quelle che sono il range di risposte della Nato. Noi ci dobbiamo ricordare che nell'ambito dell'organizzazione dell'Alleanza Atlantica esiste un comitato che si chiama Comitato di pianificazione nucleare e che proprio per la natura della deterrenza nucleare pianifica in anticipo le risposte ai possibili attacchi. Perché quando un attacco si verifica non c'è il tempo di riunirsi e di discutere e di decidere come reagire. Perché soprattutto se l'attacco è di alto livello la risposta deve essere per forza immediata, altrimenti rischia di essere troppo tardi. Quindi come reagire a seconda dei tipi possibili di attacco è già stato deciso. Le riunioni si sono già tenute, i governi si sono già espressi, il comitato ha già messo per iscritto e le unità che dovrebbero rispondere all'attacco nucleare hanno già gli ordini di attacco pronti, sigillati da aprire in caso di necessità con un messaggio criptato. Si sa già chi è che dovrebbe andare a colpire cosa, in che modo, in caso di evento nucleare. E i russi questo lo sanno. Quindi sanno già quello che succede. Non nel dettaglio perché parte della deterrenza è proprio lasciare un vago dubbio ed è per questo che esiste anche la possibilità della risposta convenzionale. Perché se è soltanto una testata di demolizione speciale non ha senso andare ad elevare la sticella nucleare soltanto per la soddisfazione di farlo. A quel punto faccio vedere al mondo che tu sei un criminale pazzo e io invece rispondo in maniera ragionevole ti affondo la flotta del Mar Nero. E a quel punto lì i cinesi sono della mia parte e non della tua. Ecco, a proposito di flotte, intanto ringrazio tutti quelli che hanno donato e quelli che si sono abbonati nel frattempo e che non mi piace interrompere mentre sta parlando il colonnello. A proposito di flotte, cosa ne pensi dell'arrivo della Gerald Ford e di quella forza congiunta di nove paesi? È per il discorso Erdogan-Grecia, visto che sono vicino a Creta. Io ho notato un paio di cose. Uno, non ci siamo noi. Come mai se tu sai qualcosa su questa storia? E due, dal tuo punto di vista, perché è stata portata la Gerald Ford? Che ricordiamoci, è la più moderna e nuova porteria americana, proprio in zona. Innanzitutto noi non ci siamo perché in questo momento la Marina italiana è molto impegnata al problema della difesa dei nostri oleodotti, dei nostri gasdotti. È un compito piuttosto pesante che credo che copra quasi tutte le nostre capacità in Mediterraneo. E quello è un interesse nazionale diretto che chiaramente ha la precedenza. La presenza di una porta aerea o di un'altra, francamente non credo che abbia una grande valenza militare. Ha una valenza politica, come dici tu, è particolarmente rappresentativa. Ma la deterrenza da parte della sesta flotta è già in atto da tempo. Chiaramente portarla in quella particolare posizione è un prendere due piccioni con una fava. Ovviamente sappiamo qual è l'impatto convenzionale militare che può avere un task force di porta aerei e sappiamo che il rispetto incute. Può anche essere vista semplicemente come una conferma dell'ipotesi di risposta convenzionale, come dicevi tu. E quindi è un ulteriore deterrente all'impiego sconsiderato di armi non convenzionali. Allora, secondo me ho fatto un po' di domande. Ci ho chiesto nei giorni precedenti di farti un po' di domande e me le sono filtrate proprio dal pubblico, oltre che in live, diciamo. Quindi alcune sono interessanti. Quindi dicono, colonnello, quanto è realistico pensare che i paesi in atto stiano già portando capacità produttiva per fra fronte alla diminuzione delle scorte? Ci stiamo prestando noi a fare questo genere di operazioni? Perché sappiamo che i russi dall'altra parte hanno già dichiarato di quasi voler riconvertire la loro economia in un'economia di guerra. Beh, state facendo questa domanda a un colonnello in congedo. Quindi io non è che ho accesso a informazioni nazionali superiori a quelle che avete voi. Io francamente spero di sì. Spero di sì perché in ogni caso, anche se non volessimo elevare la nostra capacità di produzione per sostenere l'Ucraina, in ogni caso avremmo bisogno di aumentare la produzione per sostenere il materiale che l'Occidente ha passato all'Ucraina. Questo era materiale in riserva che dovrà essere rimpiazzato in qualche modo. Poi c'è anche il fatto che abbiamo anche visto che c'è del materiale che funziona meglio del materiale che funziona peggio, materiale idoneo alla guerra moderna, materiale che si è rivelato meno idoneo. Quindi possiamo anche fare degli aggiustamenti. Infine c'è la possibilità che in caso estremo potrebbe servire a noi questo materiale. Quindi francamente spero di sì, però non posso dire sì o no, non ne ho idea. Riguardo a questo c'è anche il discorso degli americani. Hai notato che ultimamente sono un po' più conservativi nel mandare le cose. Sì, sì, ve le mandiamo ma non dalle stock ma dalla produzione che verrà. E credo che gli ucraini questa cosa la stanno mettendo in conto sul lungo termine. Forse anche i russi sul discorso di portare avanti la guerra perché non c'è un aiuto più immediato. Lo sai, finché si rastrellava un po' di cose russe, queste cose qui le si potevano mandare subito. Poi hai visto c'è anche il discorso dei tedeschi che non vogliono mandare l'aeroporto nonostante gli ucraini li stanno richiedendo da mesi. C'è addirittura i polacchi che hanno chiesto le riparazioni di guerra della seconda guerra mondiale ai tedeschi perché c'è un contenzioso. Non so se conosci questa storia. I polacchi hanno dato i loro T-72, le varie versioni, gli ucraini e in cambio i tedeschi dovevano consegnarle molto velocemente un, non mi ricordo, 40 leopoli. Una cosa invece ne hanno dati tipo 20 e i polacchi hanno detto ah perfetto non ci date gli altri 20, noi vi chiediamo le riparazioni della seconda guerra mondiale. Quindi ci sono anche questo genere di contenzioni. I tedeschi sembrano quelli più refrattari di tutti a mandare equipaggiamento in grandi quantità. E' una questione di politica interna tedesca, è un conflitto interno del governo tra la SPD e gli altri due partiti di governo, c'è una certa frizione, è una loro problematica nazionale dentro la quale io non voglio entrare, così come non vorrei che loro entrassero nelle nostre. Sì, è tutta una cosa loro interna. Allora ti leggo un'altra domanda perché questo però riguarda il tuo sito. Però per quello che riguarda il materiale da fornire è vero che abbiamo quasi esaurito, gli americani hanno quasi esaurito le scorte da passare in termini di materiale d'artiglieria, però hanno altro materiale di altro tipo che ancora non è stato fornito e che immagino sia in procinto di essere avviato. Allora questa è una domanda sul tuo sito, se vado sul sito oriogiorgiostipio.it le analisi sono ferme al giorno 152, mentre in giro trovo le analisi più aggiornate. È possibile sapere dove posso leggere le analisi, infatti che è scritta male. Nel sito ci sono le analisi fino al giorno 152, mentre dove può trovare le altre analisi più aggiornate? Credo che sono quelle che posti su Facebook. Io cado veramente dalle nuvole perché io li posto solo su Facebook. C'è anche il sito? No, è vero. C'è un sito che è in costruzione. Francamente non sapevo neanche che fosse online perché lo sta organizzando un mio amico e non ero al corrente. Non lo sapevi? Grazie dell'informazione. Io l'avevo trovato, sì, ci sono le analisi fino al 152 giorno. Io sono negato per queste cose, scusatemi, ma tu trovate tutto quanto sulla mia pagina Facebook. Quindi dili di aggiornarlo. Ne approfitto per scusarmi e se non rispondo sempre a tutti, ma ultimamente sono stato veramente travolto dalle domande di amicizie e dalle domande tecniche. Non riesco a rispondere a tutti quanti perché il cane mi morde quando sono troppo lungo. Eh sì, è un po' problematico quel discorso lì, motivo per cui ho blindato il mio Facebook perché a un certo punto diventa impossibile. Dovrai per forza fare una pagina pubblica e una pagina privata. Non fai vita. Allora, vediamo altre domande. Questa è di Giuseppe. È pensabile lo stato attuale per gli ucraini imbarcarsi in una terza offensiva per Giungiuraberdiansk? Ormai diciamo il tempo utile è finito. Parafroso perché in realtà è molto più lunga. Dice che strategicamente sarebbe un colpo terribile, sai quella famosa analisi che abbiamo fatto tra la distruzione del ponte o inibizione dell'utilizzo del ponte, un'eventuale offensiva da Zaporizia verso Berdian, tutto il resto praticamente rimarrebbe insaccato. Ma a parte le condimento, semplicemente gli ucraini ne hanno abbastanza forze pesanti, corazzate e meccanizzate per condurre un'offensiva anche lì. Non è possibile in questo momento. Se ne parla in primavera oppure possibilmente nel mezzo dell'inverno, quando il ghiaccio è bello duro, rimane d'inverno. Eh, lì sarebbe già più complicato. Secondo me sono già abbastanza stanchi, eh, rispetto a quello che hanno fatto e già hanno fatto molto in questo periodo. Questa la faccio io ma tanto immagino che in mezzo alle tante domande ci sarà. Come vedi il discorso della Bielorussia? Perché in questo periodo si parla proprio di alcune manovre congiunte, eccetera. Io ti dico prima la mia, poi dici la tua. Eh, io ritenevo la possibilità di un ingresso della Bielorussia nella prima fase, quando ancora era incerta la situazione o quando i russi bene o male sembra che stavano vincendo. Che se entrano ora, eh, scusate, ma sono dei cretini. Cioè vai a entrare nel periodo peggiore possibile per i russi, quando sono i russi stessi che stanno schiantando. Non mi pare molto, a meno che non ci sia veramente una coercizione di Putin, non puoi evitare questa cosa, il tuo destino è legato al mio, ma dal punto di vista militare i bielorussi hanno tutto l'interesse a starsene fuori. Non l'hanno fatto nei momenti migliori, figuriamoci adesso. Eh, assolutamente. L'Ucraina è, in questo momento, rispetto alla Bielorussia, è una potenza militare notevole, mentre la Bielorussia non mobilitata e con soltanto cinque brigate attive, eh, di cui due leggere e tre pesanti, confinando a nord con la Lituania, a ovest con la Polonia, oltre che a sud con l'Ucraina, potrebbe inviare a sud due brigate, ma neanche una avanti e una indietro, nella certezza che i russi, che non hanno forze sufficienti sui loro fronti, non sarebbero assolutamente in grado di aiutarli in nessun modo. E sapendo per di più che gli ucraniani li stanno pure aspettando. E che i soldati dell'esercito bielorusso non vedono l'ora di passare dall'altra parte. Ricordiamoci che c'è già una legione bielorussa che combatte a fianco degli ucraniani, che riconosce il governo dell'opposizione insediato in Lituania. Credo che se la coercizione di Putin diventasse stupidamente così forte da costringerlo, secondo me Lukashenko semplicemente scappa all'estero. Sì, non credo che abbia un gran futuro. Nel senso che lui ha tutto l'interesse a starsene fuori. E ha fatto bene a starsene fuori. Sta cercando di sapere, perché non è stupidamente. Con i contatti bielorussi che ho, tutti mi hanno detto l'esercito, non ci pensa nemmeno. Non ci pensava quando le cose andavano bene, figuriamoci ora. A livello più basso c'è proprio di truppa, non hanno nessuna intenzione di combattere contro gli ucraini. Era interessante vedere a livello di forze, almeno sulla carta, per carità, che comunque il quantitativo di carri armati, di artigliere, era estremamente elevato per un esercito così piccolo, ma hanno circa 30.000 effettivi. Hanno 700 carri armati, stiamo parlando di T-72, 1984 e cose del genere. Una piccola aviazione, circa una cinquantina di velivoli, però rispetto al quantitativo di truppe avevano tipo 800 BMP-2, insomma non sono messi così male, è tutta roba vecchia, però roba degli anni di tanto, bisogna vedere come l'hanno mantenuta. È quello che lì ha lasciato l'Unione Sovietica. Un esercito vale per quello che valgono i suoi soldati, indipendentemente dall'equipaggiamento che hanno. Se i soldati non hanno intenzione di combattere, l'esercito non combatte. Se i soldati sono incazzati e vogliono combattere, combattono anche se non hanno le armi. E l'abbiamo visto con gli ucraini. Una maschirocca che va avanti ormai da quanti mesi dell'intervento ucraino, in ucraina dei belorussi, se ne parla da? Da sempre, dall'inizio. Dall'inizio della guerra, da quando hanno messo un po' di unità a fare addestramento mentre i russi ancora attaccavano Danol, per far vedere che forse potevano arrivare anche loro, perché comunque io avevo usato questo parallelismo, la flotta in essere, un po' un concetto della seconda guerra mondiale italiana. Finché stanno lì comunque gli ucraini ogni tanto devono guardarsi alle spalle e tenere un po' di unità, era un aiuto indiretto. Se ne parlava e se ne continuerà a parlare, ma solo a parlare. Quello che potrebbe essere preoccupante, in teoria, è un eventuale colpo di mano lusso per, come lo osservavi tu, appropriarsi di un certo quantitativo di materiale bellico, di carri che... Ma quello onestamente se vogliono se lo prendono, non è che devono chiedere o c'è da fare tanta... L'hanno già fatto col munizionamento, eh? Avevo già certificato 4-5 mesi fa che i famosi munizioni da 152 erano state prima portate in Bielorussi e poi riportate indietro. Quindi stavano già risaccheggiando quelle che avevano portato in Bielorussi. Non credo che hanno chiesto il permesso, ecco, lo fanno e basta. La Bielorussi è una specie di giardino. Mi piacerebbe sapere se hanno chiesto il permesso a usare i carri indiani, i T90 indiani che erano lì per essere retrofittati. Quello mi piacerebbe tanto saperlo, se il governo indiano era d'accordo? Se dovessi mutarmi, no. In quel momento rastrelli un po' tutto quello che puoi. Fra l'altro erano uscite fuori anche delle cose, cioè i russi hanno dichiarato che tutti i carri che andranno a produrre in futuro dovrebbero essere T-72 dello standard White Eagle, cioè quella versione che avevano dato ai serbi e che ci hanno messo tipo 4 anni per dargli una sessantina, che è quella versione buona, cioè è meglio che puoi fare con T-72, no? È molto spiegabile. Sì, con addirittura la visione termica indipendente per il comandante, eccetera. Solo che in situazioni di guerra mi sembra molto complicato addirittura. Non riescono a mantenere i mezzi che hanno, non riescono nemmeno a riparare quelli che tu hai da indietro e figuriamoci, mettersi a produrre anche queste cose qui come standard proprio di nuova produzione. Quindi mi sembra un po' delle sparate un po' propagandistiche come può essere il Satan o il Poseidon e queste cose qui. Ecco tu come lo vedi il Poseidon? Perché sappiamo che c'è il Belgorod che era scomparso, no? Per due settimane non si sapeva dove era il Belgorod, in realtà si trova dalle parti di Murmansk nel mar di Barents a fare praticamente delle esercitazioni e ha tutti gli occhi puntati addosso perché tutti vogliono vedere se tira fuori questo Poseidon oppure no. Secondo te è un'arma mitologica o veramente può creare un mini tsunami? È l'arma finale. È un'arma strategica, ha senso soltanto se impiegata contro una grande città portuale, se no non ha un grande significato. ci sono tantissimi dubbi se sia già completa e pronta a lavorare e a questo punto dopo i fallimenti degli attacchi di precisione c'è anche un grosso dubbio se esiste una capacità di guida a lungo raggio, capace di portarla nel posto giusto e non magari nel fiordo sbagliato. Quindi francamente non me ne starei a preoccupare più di tanto. So che gli entusiasti delle superarmi ci si puntano tanto su questi aspetti, ma ho paura che una nazione che comunque conta appunto su T-72B per le sue operazioni convenzionali non è che abbia poi quella gran capacità di produrre superarmi impiegabili durante questa guerra, forse nella prossima. Qui ci chiedono, colonnello ma l'esercio italiano come è messo? D'aiuti noi come siamo messi a mezzi e rifornimenti? A noi di aiuti all'Ucraina purtroppo in termini di materiale, se non parte la nostra di industria bellica non è che abbiamo molto da fornire. Probabilmente ci sarebbe da discutere se abbiamo delle blindo centauro pronte da consegnare, rinunciando la nostra capacità di mobilitazione di qualche reggimento di cavalleria se fosse necessario. Per quel che riguarda noi come siamo messi, noi in realtà non siamo messi così male, perché noi tendiamo a fare il rapporto tra come potremmo essere e come effettivamente siamo ed è sconfortante. Il rapporto andrebbe fatto tra come siamo messi e come sono messi i nostri potenziali avversari e da questo punto di vista invece non siamo messi affatto male. Quello che non funziona con noi è lo stockpile, il materiale di riserva, soprattutto munizionamento e parti di ricambio, disponibili per sostenere il conflitto in lunga durata. Quello non ce l'abbiamo, quello è il nostro grosso problema, noi siamo con i depositi vuoti. Il nostro materiale è in condizioni di manutenzione non buone, però in realtà ci vuole molto poco a sovvertire il discorso. È una questione di un mese o due di rimettere in efficienza i mezzi che sono non efficienti. Sono comunque pochi, però potrebbero far fare operazioni più che dignitose al nostro esercito. Nel momento in cui andiamo a fare operazioni che i militari che devono combattere sentono. Io non mi stancherò mai di ripetere che la grande lezione di questa guerra è che l'hardware, l'equipaggiamento serve solo fino a un certo punto. La cosa fondamentale non è l'equipaggiamento, la cosa fondamentale è la motivazione al combattimento da parte dei soldati. Se quella c'è, si trova tutto. Se quella non c'è, non serve niente di disporre di materiale avanzatissimo. E questa è la vera grande lezione militare della guerra in Ucraina fino a questo momento. Sai cosa mi ha ricordato a me? La guerra di indipendenza americana, quando gli inglesi del generale Cornwallis vinsero tutte le battaglie e poi bisogna trovare un modo per tenerli nel sud del paese e non andare a farsi ricongiungere per andare a finire George Washington. E allora gli americani si inventarono praticamente questo metodo dell'ambush, delle imboscate, delle piccoli gruppi di 100-200 uomini per creare una guerriglia permanente in modo che loro non potessero sganciarsi. Gli ucraini più o meno con i javeli hanno utilizzato una tecnica abbastanza simile. Perché qui leggevo una domanda di Francesca, dice la superiorità ucraina più che nei mezzi e negli uomini addestrati si è dimostrata l'eccellente coordinazione. Intanto perché è più facile coordinare piccoli gruppi rispetto a tante unità, soprattutto gente che conosce il territorio, tante erano unità territoriali create lì, che vivevano lì, è come se io dovesse combattere a Livorno contro qualcuno, sono esattamente tutti i fiumi ciattoli, i ponti e cose del genere. Quindi crede che riusciranno per almeno la campagna primavera a coordinare meglio le proprie truppe? Bisognerebbe per riformulare tutta la catena di comando e l'organizzazione auspica. È troppo tardi perché hanno subito troppe perdite nei quadri bassi e quindi quelli che erano i capitani con un filo di esperienza in questo momento sono o morti oppure comandano i battaglioni. Quindi la possibilità di avere capitani veterani a comandare compagnie in primavera che abbiano acquisito quella sicurezza necessaria ad avere una capacità indipendente di giudizio e di potersi finalmente cominciare a muovere sul terreno di iniziativa non c'è, perché in questo momento le compagnie le comandano le tenenti in esperti che non hanno questa confidenza, non hanno questa capacità. E poi purtroppo è contrario al loro addestramento, quindi richiederebbe veramente uno sforzo morale enorme che dovrebbe essere supportato dall'alto. Ma fintanto che continuano a nominare questi tipi di generali... Quelli sono i generali che io mi ricordo, ora mi sfugge il nome, c'era un generale che era stato assegnato da ITE nella gestione della sacca della Curlandia, magari te lo ricordi, che era famoso perché se beccava un soldato tedesco su una strada, gli chiedeva che cosa stai a fare qui? E la domanda non gli piaceva, lo giustiziava lì sul posto, dicendo che era un codardo. Poi fu il primo a scappare con le prime nave quando la sacca della Curlandia venne chiusa. Sono quei generali che non hanno nessun sentimento verso i propri soldati e li usano come carne da macello e quindi i soldati stessi poi alla fine finiscono per abbandonarli paradossalmente. Quando la la paura della propria vita supera la paura del comandante... se uno ha guardato il film 300 no? Quando c'era Leonie diceva non passerà molto tempo prima che i tuoi scavi temano più la nostra spada della tua frusta e quindi è abbastanza interessante. Qui invece c'è una domanda di Dario Cosentino. Zelensky potrebbe mostrarsi intransigente sulla Crimea con lo scopo di non arrivare a ribasso a future trattative tipo che gli USA direbbero l'ho convinto a rinunciare alla Crimea fai la tua parte? Avrebbe potuto funzionare secondo me fino a tutto luglio. Fino a tutto luglio direi che un accordo con il ripristino della frontiera internazionale e il riconoscimento della Crimea alla Russia o magari un nuovo referendum però con la popolazione attuale quindi che avrebbe portato l'ammissione comunque della Crimea alla Russia era assolutamente nelle carte. Comunque era short quello con gli occhialini. Adesso credo che non lo sia più. Il consenso a livello occidentale e il ripristino delle frontiere internazionalmente riconosciute non verrà consentito alla Russia di tenersi la Crimea. Se si arriverà a una soluzione di compromesso intermedio sarà appunto una soluzione intermedia come ce ne sono state tante ad esempio in Medio Oriente in attesa di un trattato di pace per cui per esempio un armistizio sulle frontiere che lascia la Crimea alla Russia in attesa di un trattato di pace che comunque non riconoscerà, non potrà riconoscere la Crimea alla Russia perché sennò comunque gli verrebbe riconosciuto un vantaggio di aggressione rispetto alla situazione prebellica e questo non sarebbe accettabile dalla diplomazia occidentale in nessun modo. Potrebbero tenerlo come fatto compiuto per un po' ma non verrebbe riconosciuto esattamente come hanno ottenuto fino adesso che so io la Transnistria o l'Amcazia o l'Ossetia del Sud. Sono assolutamente convinto che dovranno restituire la Crimea. Non crede che ci sia anche un'impokerisia da parte occidentale perché io so benissimo che se si facesse una votazione in Crimea vincerebbero comunque i russi. A questo punto sì, è chiaro, hanno spulso un sacco di gente. Si dovrebbe prima di fare un referendum in base a quelle che sono le norme internazionali per il referendum dovrebbe rientrare tutta quanta la popolazione prebellica. Si facesse un referendum con la popolazione che c'era in Crimea al 1992, bisognerebbe vedere come andrebbe. Perché la popolazione russa sa perfettamente che adesso, restando russi, saranno poveri in canna. Mentre andando con l'Ucraina si ritroverebbero nell'Unione Europea. Io ho qualche dubbio che potrebbero per la Russia tutti quanti, i russi. Io ti dico, le votazioni della Gallup, che sono inglesi, quindi non tacciabili, di nel 2014, 2015, 16, 17, 18, io l'ho vista in tutte le versioni, addirittura il 67% di quelli che si riconoscevano come ucraini e vivevano in Crimea votavano per l'annessione alla Russia. Sì, perché bisogna ricordarci che lo stato ucraino nel 2014 non era messo benissimo. La Russia ti garantiva un qualcosa... Una metà è quella economica. Sì, era più economico che... Bisogna vedere se si facesse oggi. Però c'è anche quel vantaggio lì, nel senso, chi era ucraino se n'è andato. Lo stesso vale per i Donbassi. Oggi fai una votazione, non è una votazione reale, anche se il 75% si riconosce come russo, russofilo, russofono, ci vedete voi, insomma, tutte le varie declinazioni culturali, sociologiche che preferite. Ora la questione è ancora più esacerbata dal fatto che chi è veramente ucraino, si riconosce ucraino, parla ucraino, comunque se n'è andato. Quindi grazie al cavolo che se voti vincono i russi. Invece su Zaporizia e Kershaw no. Se si vota sull'intero Oblast il discorso cambia, perché gli Oblast sono spezzati in due. Eh, ma guarda, anche da dichiarazioni dei generali ucraini dicevano che molti soldati si lamentavano che qui la gente ci odia, soprattutto quando hanno combattuto a Severodonetsk, Lizichansk, non so Kramatorsk e Sloviansk perché non ci siamo arrivati. Però ho già notato, già quando vai, anche nelle votazioni farsa, di Kershaw era al 53%, ed era una farsa. Zaporizia era al 60 e qualcosa, ed era una votazione napoleonica, ecco. Cioè, quelle bulgare napoleoniche dove arrivava Napoleone dicevano ah, i voti dell'esercito sono solo 100 mila, mettiamo 300 mila. Così la gente sa che l'esercito è dalla mia parte. Qui qualcuno mi chiede se sono triste. E no, sono solo stanco. Stanco perché oggi ho fatto due apparizioni ed ero alla radio anche. Quindi quando incominci a fare due, tre, quattro cose al giorno incomincia ad essere pesantino, diciamo. Ma questa era, era sarcastica, perché loro hanno la fissa che se tu parli male dei russi, di come vale, io sono filo russo, secondo alcuni, secondo altri sono filo soros, dipende un pochino da come li gira quel giorno, diciamo. Per farti capire la linea di pensiero, perché a me diverte molto. Nella prima fase della guerra ero filo russo perché vincevano i russi. Nella seconda fase della guerra, quando i russi perdevano, erano filo ucraino. Non perché dicevo quello che stava accadendo, e giustamente stava accadendo quello, no? Perché poi i fatti erano quelli. Quando i russi sono tornati a fare l'offensiva la seconda volta, io dicevo, guarda che qui stanno facendo un'offensiva, io ti devo raccontare quello che succede, che ti devo dire l'opposto della verità. Purtroppo è anche il motivo del titolo di questa live, perché il titolo mi è venuto quando a un certo punto c'era Virgilio Ilari, presidente della società storica militare italiana, che discuteva con alcuni utenti, e c'erano quelli, sai, proprio così, no? E allora mi è venuto in mente questo parallelismo per quanto riguardava l'orizzonte degli eventi, nel senso che l'analisi e il pensiero sono la luce e il black hole, il buco nero, sono praticamente quelli schierati da una parte o dall'altra. Perché inutile, qualsiasi pensiero che tu fai va a finire dentro quel buco nero. Tutto viene piegato nell'ischieramento. Ci sono quelli che ci siano troppo, perché hanno preso a cuore una parte, si può pure fare. E come con calma. Ecco, io purtroppo non faccio wishful thinking né da una parte né dall'altra, proprio non mi interessa, non ci guadagno nulla, essere filonato, filo... hai una pendenza, uno ce l'ha un po' di più, perché onestamente a me di vivere sotto la Russia non è che mi piace troppo, ecco. Non mi piacerebbe vedere i russi vivere... qualcuno vivere sotto la Russia. Io li ho visti, non sono di quelli che... rimpiangono il comunismo e non ci sono mai andati. Non l'hanno mai visto cos'era il comunismo. Io l'ho visto, ero piccolo, ma l'ho visto negli anni 90. Anche se dico, ah sei stato traumatizzato. No, io vivevo in Italia, andavo a trovare dei parenti. Non è che ci ho vissuto. Io non sono nato in Polonia, sono nato qui. Però vi assicuro che non era proprio bello vedere cani che ti controllavano per quattro ore alla frontiera ogni singolo treno. Cioè, quelle cose che la gente ha visto nei film, io l'ho visto per davvero. controllavano anche gli zainiti dei bambini, per dati il livello di fissazione che avevano appena vedevano uno che veniva dall'Occidente. Ecco, non è un bel vivere. Quindi non so perché la gente vorrebbe... non so perché esistono dei partiti così grossi verso i filo russi in Occidente. Vi assicuro che si vive molto peggio sotto i russi che non sotto l'Occidente. E qui c'è il discorso, ah, perché dobbiamo scegliere una gabbia? perché si ritorna sempre... è perché abbiamo perso la Seconda Guerra Mondiale, signori. Non fate guerre che perdete e non avrete problemi. Si ritorna sempre lì. Allora, vediamo un po' di domande intelligenti. Poi ovviamente molti stanno con gli ucraini, molti si sono incamerati anche la guerra, insomma, da un punto di vista più filosofico, più valoriale. Per non passare troppo per filo ucraino anch'io, posso fare un commento, visto che rientra in quello che stavamo dicendo prima, che man mano che si avvicina il momento in cui gli ucraini potranno cominciare veramente a credere di aver vinto, sarà forse anche il caso di cominciare a fargli capire che nel momento in cui avranno vinto, loro avranno vinto la guerra contro Putin. Io vedo un pochino preoccupante su internet il montare delle accuse all'intero popolo russo. Ora, questo trovo che sia pericoloso per il futuro, in quanto che sia vero oppure no che i russi sono più responsabili come popolazione di questa guerra, in realtà non è molto importante. Quello che è importante è che comunque i russi ci saranno e con loro bisognerà vivere, convivere e anche collaborare in futuro. Quindi scaricare su di loro la responsabilità che in realtà è prevalentemente di un regime, sarebbe sbagliato. Quindi gli stessi ucraini dovrebbero cominciare a preoccuparsi anche di un aspetto della pace che verrà fuori, per cui nel momento in cui loro recupereranno e li recupereranno i loro territori, dovranno anche rendersi conto che non li possono recuperare cacciando via i russi e dire questa adesso è Ucraina e non se ne parla più. Questa adesso è Ucraina, certamente, però loro dovranno anche applicarsi a tutte quante le provisions dell'adesione all'Unione Europea per la quale stanno combattendo. E questo significherà tutta una serie di garanzie alle minoranze alle quali probabilmente ancora non hanno pensato. Vodano prepararsi, nel caso della Crimea di cui parlavamo prima, a una sorta di pacchetto alto adige per cui i russi converrà restare in Ucraina e in Crimea. e non si lamenteranno in questo. Perché se non fanno così gli Ucraini non entrano all'Unione Europea. E questo è importante che qualcuno cominci a tirlo. Ecco, quella è la cosa che preoccupa di più anche me. Grazie per aver portato questo argomento. Non solo alla domanda. Ora ci arriviamo alla domanda. Il discorso del dopo. Io ho visto distruzione di statue, cambi di nomi di vie, cose del genere. Quello è il problema più grosso. Perché tu puoi dare tutte le colpe che vuoi alla classe dirigente. E' anche vero che non è che li hanno proprio votati. Però c'è anche una buona parte del paese che fino a un anno fa, insomma, tutti lo consideravano un Dio. Però ci sono un sacco di russi che ora hanno cinque anni, otto anni, dieci anni, dodici anni, quattordici anni. Che fra cinque saranno adulti. E si interfacceranno con te. Vuoi dargli la colpa di questa guerra? E' quasi il light motivo di quasi tutte le live che sto facendo in questo momento. E ho fatto anche delle live con Paolo Nori, con Massimo Vassalo, proprio parlando di cultura russa. Per fargli capire quanto è interessante, quanto è profonda, quanto ti può dare e quanto uno non dovrebbe odiare di altri popoli. Perché poi, in stili quel revanchismo, i russi si creeranno il mito che sono stati pugnalati un po' come i tedeschi, il mito della Dolstoss, queste cose qui. E fra vent'anni, quei ragazzini che oggi ne hanno quindici, invece di trovare un occidente che dice al netto degli errori sbarazzatevi di questi, vi diamo una mano anche a voi a riprendervi, troverete un sacco di gente di quindici anni che vivrà nella miseria e a cui diranno che la colpa è l'Occidente. E quando ne avranno venticinque, trenta, noi ci troveremo una seconda guerra. Perché da una parte ci saranno gli ucraini che non avranno assorbito la cosa perché quella era la lezione che poi abbiamo tratto dopo la seconda guerra mondiale. Perché se, e ricordatevi, se non accettate questa cosa, allora tornate a zappare i campi. Perché l'Italia e la Germania, se dovessimo ragionare così, gli americani ci avrebbero dovuto lasciare dove eravamo, in miseria. Invece ci hanno ricostruito. Un po' perché serviva anche in ottica antirussa. però si è capito che si doveva andare oltre il distruggere un paese. Bisognava anche ricostruirlo e portarlo verso la democrazia. Quindi questo è il pericolo più grande. Anche il disarmare gli ucraini dopo. Perché lì genera un quantitativo di armi spropositato che io ho paura che poi la gente povera che tornerà a casa con le case distrutte eccetera non vorrei che qualche giavelino finisse in Medio Oriente. Da calcolare anche quello, anche il dopo, su queste cose qui. E su questa cosa qui infatti viene proprio a fagiolo il commento sul decreto di Zelensky che vieta qualsiasi trattativa con Putin per legge. Ed è parte di quello che dicevamo prima. L'Ucraina è un paese in guerra. Durante il periodo bellico si prendono determinate decisioni, determinate iniziative che possono essere reali o di facciata. Non ci dimentichiamo mai che è appena morta la regina Elisabetta in Inghilterra. Qual è il nome della famiglia reale inglese? Loro si chiamano Windsor. Ma non è quello il nome della famiglia. La famiglia reale in Britannica si chiama Hannover. Ha cambiato nome in Windsor nel 1914 perché era un nome tedesco e la Gran Bretagna era entrata nella prima guerra mondiale contro la Germania. La città canadese di New London si chiamava New Berlin. Ha cambiato nome immediatamente all'inizio della prima guerra mondiale. Queste sono cose che si fanno all'inizio di un conflitto, durante un conflitto, durante il quale bisogna alimentare il morale della popolazione. sono decisioni che vanno prese con beneficio di inventario perché servono appunto a sostenere il morale. Se ricordo bene, durante la prima guerra mondiale c'era anche stato un grosso problema con alcune razze di cani che in Inghilterra erano riconosciuti come cani di tipo tedesco e che hanno subito persecuzioni perché considerati cani tedeschi e viceversa in Germania con i cani considerati inglesi. Siamo a queste forme di aberrazione e lo fanno tutti, non è che lo stanno facendo gli ucraini. È una cosa assolutamente normale. Per cui questa decisione va presa e analizzata nell'ambito di quella che è la situazione politica interna ucraina. l'Ucraina è un paese invaso, è un paese che sta soffrendo moltissimo, è un paese dove la maggioranza della popolazione, almeno l'80%, sostiene lo sforzo bellico ed è incazzata nera. Si ha anche ragione di esserlo perché tra l'altro è stata aggredita da un popolo che considerava fratello da cui non pensava che sarebbe stato aggredito. Questa gente sta facendo pressioni. Il governo Zelensky, piaccia o non piaccia, si può voler bene, si può essere neutrali, si può detestare, Zelensky è incredibilmente controverso come personaggio. Però bisogna tenere presente che lui è sottoposto a pressioni fortissime da quella che noi chiameremmo la destra del suo paese, dalla destra del suo parlamento. Se lui non si dimostra abbastanza patriottico in questo momento, lui rischia di perdere il posto perché quella Ucraina sarà anche imperfetta, molto imperfetta, chi siamo noi per lì in Roma. È comunque una democrazia. È una democrazia che si può facilmente liberare dal suo presidente se non ne è soddisfatto. Anche loro hanno l'impeachment e giustamente lui ha già fatto presente che se lui accettasse di trattare con Putin in questo momento sulla base di una Crimea russa, lui verrebbe semplicemente tolto di mezzo politicamente, non ammazzato, e gli ucraini continuerebbero a combattere lo stesso indipendentemente da quello che fa lui. Putin è un autocrate, Zelensky no. Può essere simpatico o meno, ma è un presidente di un paese democratico. risponde a un Parlamento, un Parlamento che in questo momento è molto nazionalista, perché è il Parlamento di un paese in guerra. E bisogna capire che determinate decisioni si prendono sotto determinate condizioni. Non è che Zelensky ha detto noi non trattiamo. Zelensky ha detto noi non trattiamo con Putin perché Putin dice che non ci dobbiamo arrendere. Nel momento in cui Putin cambia le sue richieste cambia anche la posizione ucraina. È ovvio. E credi che cambierebbe al netto ora? O rimane intransigente così? Se Putin dicesse torniamo alle frontiere internazionali però voi garantite tutte le le garanzie di assistenza, di autonomia alle popolazioni russe o che si considerano russe all'interno dell'Ucraina sulla stessa base di ciò che richiede l'Unione Europea Non è quello che vuole davvero, sai. No. Ma se lo dicesse Zelensky sarebbe costretto a dire eh sì, sediamoci e parliamo. Eh, farebbe la parte di quello veramente. Cioè, quello che vogliono russi e palesi. Un trattato formale di neutralità dove loro non entreranno mai nella Nato, una situazione austri anni cinque. Sarebbe una cosa astuta da parte di Putin. Sarebbe una via d'uscita. Spiazzerebbe tutti. Nessuno gli potrebbe più dire niente indipendentemente da quello che ha fatto in passato. Sarebbe l'artefice della pace. Gli darebbero perfiero un Nobel probabilmente. È assurdo, ma è così. Eh, per cui, eh, non è che va visto come un assoluto questo. Lui l'ha messo sotto forma di legge probabilmente gliel'hanno anche un po' imposto. Ma, eh, soprattutto per mettere bene ben chiaro che, no, noi al nostro territorio non ci rinunciamo. E il mondo se ne deve fare una ragione. Ed è comprensibile perché nessuna nazione ha rinunciato al suo territorio dal 1945 a oggi. Perché dovrebbero cominciare loro? Allora, qui ci chiedono perché Zelensky è controverso? Perché, eh, stiamo parlando in ambito italiano, in ambito, eh, opinione pubblica italiana. Ma, eh, forse non è a me che dovrebbe essere chiesto. Eh, però ho noto che in Italia tutte le volte che una persona assurge un personaggio, assurge a posizioni di elevata notorietà e di successo, eh, diventa una gara a trovare i suoi difetti. Eh, sembra che la gente, eh, pensi che, eh, ok, a me non mi inganna. Tutti dicono che è bravo, quindi vuol dire che c'è qualcosa sotto. È la nostra dietrologia, eh, che ci spinge a demolire i personaggi. Eh, per partito preso. Che siano di destra, di sinistra, buoni o cattivi, belli, brutti, vanno demoliti. Nessuno ha il diritto di essere una star nell'ottica dell'opinione pubblica italiana. Ed è sempre una parte dell'opinione pubblica italiana. Ricordiamoci che lui parla russo, eh. Cioè ha imparato a parlare ucraino, ma in realtà lui parlava russo quando è stato eletto, eh. Lui è un ebreo, ucraino, russofono. Ma eh, da quello che osservo io, eh, i più accaniti combattenti in questo momento, eh, sono proprio i russofoni. Quelli che hanno fermato l'invasione, sono i territoriali di cui parlavi tu prima, quindi quelli che operano sul territorio, il territorio che è stato invaso era quello dei russofoni, perché è la parte orientale. Quindi i più incavolati sono proprio i russofoni. Quelli che parlano ucraino sono nell'ovest e loro non sono mai stati invasi. Eh sì. Il russofono uguale russofilo. Andate a spiegare un attimo agli irlandesi, che sono tutti anglofoni, se si sentono anche anglofili. specchi e qui mi diverto. Allora, Zelensky, andate a vedere quando è stato eletto, così si capisce come la gente ha, eh, legge le cose, le prende per il partito preso, ma poi non sa assolutamente niente di quello di cui sta parlando. Zelensky non è salito al patere dopo, eh, Maidan. È arrivato dopo. E Zelensky ha sconfitto con Roschenko le elezioni. Ecco. Quindi questo per far capire come sono alcuni, no? Leggono cavolate e prendono le cose. Secondo me guardano troppo mazzucco cose del genere. Eh, io personalmente conosco anche le aree grigie di Zelensky. Parliamo dei oligarchi che lo hanno finanziato, quelli che poi lui ha fatto andare via, quelli filo-israeliani, queste cose qui che, eh, prima lo hanno finanziato, poi li ha tolto la banca, poi sono scappati. Eh, sicuramente la gestione del Donbass da parte di Zelensky non è stata delle migliori, con la Azov, con Bravi Sector. Cioè, su quello dovremmo ragionare molto a fine guerra. Cioè, sul fatto che invece di mandare l'esercito regolare hanno mandato i peggiori, quelli che ovviamente avrebbero creato casino. Io mi ricordo pochi giorni prima della guerra, Zelensky che parla con Macron e gli dice, va bene, accetterò gli accordi, poi torna e il giorno dopo da Kiev dice, no, non accetterò gli accordi. Cioè, ci sono stati anche dei campi. Evidentemente quelli più estremi all'interno dell'Ucraina gli hanno fatto rimangiare tutto. Quindi anche lui ha delle zone... Nel frattempo il dialogo con Putin che pretendeva, prima di reintegrare le... che il reintegro delle frontiere potesse essere fatto soltanto dopo il referendum. Mentre invece, secondo gli accordi di Minsk originali, la cosa non era prevista e andava discussa. secondo Putin non era discutibile, bisognava prima fare il referendum e poi il ritenuto delle frontiere. Zelensky pretendeva il contrario. E' su questo che si sono rotte le trattative su Minsk. La narrativa russa è stato Zelensky a ritirarsi. Non è vero, è falso. Semplicemente non si sono messi d'accordo tra di loro. Hanno rotto tutti e due. Sì, poi lo sappiamo. Ha questa frangia di destra, insomma, che lo spinge verso certe posizioni e... Sai, i russi lo aiutano, eh. Cioè, non aiutano lui, aiutano queste frange. Perché i russi spingendo... Beh, quelli si radicalizzano sempre di più e lui diventa anche, in un certo senso, vittima delle parti più nazionaliste del paese. Ma è un nazionalismo creato proprio da questa coercizione russa. E lo stesso vale per i separatisti russi, eh. Cioè, vengono sempre più coercizzati da quelle unità ucraine, dai russi da una parte. Insomma, a un certo punto sono quelle situazioni, eh, siccome io sto scrivendo il libro insieme a Stefano Poma, che è il mio editore, eh, più che altro storiografia militare, no? Di questa, di questa guerra. Eh, cerchiamo di arrivare, diciamo, ad adesso, no? Per essere impari, no? E cercando di capire, eh, di chi sono le colpe, a un certo punto ti rendi conto che anche se c'era una colpa iniziale, cioè tra russi e ucraini, considerato il numero di torti che si sono fatti a vicenda, è praticamente impossibile determinare di chi sia la colpa. Perché se ne sono fatte talmente tante che la colpa iniziale ormai è seppellita da un substrato di errori da una parte e dall'altra. Poi tutto decade quando... Facendo storia, lo insegni pure tu, è sciocco andare a cercare la colpa. È diventata una cosa di moda, soprattutto da noi recentemente, ma di chi è la colpa? E non è quello il problema. Chi ha la soluzione è il problema. Come porre fine al problema? Non a chi attribuire la responsabilità. Quello magari dopo, se necessario. Io lo chiederò a farsi perché io e te ragioniamo soltanto di cose militari, no? E qui ci dovrebbero essere politologi o esperti di diritto internazionale a trovare un modo per farci uscire da questa situazione. Perché dal punto di vista militare io lo vedo come un impasse. In realtà io non sono così convinto come te che i russi sono finiti. Nel senso che, secondo me, faranno un processo tipo... Ho detto che in questo momento non hanno la possibilità di riprendere l'iniziativa. Ecco, secondo me faranno un processo tipo gli ucraini. Ricordiamoci, l'esercito ucraino all'inizio non era granché. Aveva un nucleo di elementi abbastanza esperti, no? E poi il resto si è formato durante la guerra. Cioè quelli che hanno cominciato questa guerra sette mesi fa, che era un'unità territoriale, vai, prendi il fucile. Ora che si è fatto sette mesi di guerra, beh, è un soldato. È un soldato veterano e ben motivato. I russi, secondo me, vogliono fare la stessa cosa ma più in grande. Cioè ne mandano un milione, tengono la linea e magari da questo milione fanno un processo di, diciamo, raffinamento e riescono a tirarne fuori un po'. Addirittura magari risparmiando quelli che ci sono adesso. Cioè le sostituiscono, tirano fuori quelli che hanno esperienza e li mettono un po' in calma. Perché c'è un doppio processo. Cioè abbiamo sia quelli che vengono mandati che veramente non hanno nessun addestramento, sia quelli che stanno addestrando. Non sono la maggior parte, però secondo me stanno tentando di fare una specie di... da una parte tappo i buchi, dall'altra tento di tirare fuori un qualcosa. Ma qui torniamo a quello che dicevo prima. La differenza fondamentale è la motivazione del combattimento. La differenza tra l'Ucraina all'inizio della guerra e i russi adesso è che le regole d'Ucraina erano motivate a combattere. Le regole russe adesso non sono affatto motivate a combattere. Non vedi il pericolo Germania? Cioè quando alla Germania o al Giappone viene detto no, voi potete fare soltanto una resa incondizionata. Che in un certo senso aveva motivato i tedeschi anche a combattere fino all'ultimo. Io ho paura che avvenga lo stesso processo per i russi. Cioè una guerra non voluta, non sentita, piano piano si trasforma veramente in una guerra russa perché sanno che se non vincono sarà un disastro anche per loro. È quello il pericolo. E allora magari sarebbero motivati proprio per evitare il disastro. Ho la sensazione che questo è quello che Putin stia cercando di fare. Sì, ok Putin. Ma quello che stiamo cercando di fare noi in quanto occidente è proprio il contrario. Nessuno toglierà alla Russia un centimetro quadrato del suo territorio legittimo. Questo deve essere assolutamente chiaro. Nessuno costringerà la Russia al disarmo. Nessuno costringerà la Russia a alcunché di umiliante. Ci sarà da discutere dei danni di guerra. Però quello probabilmente è un problema già risolto con tutti i beni russi sequestrati all'estero che non appartengono veramente al popolo russo. quindi non toccherà più di tanto la gente. E a quel punto bisognerà anche cominciare a parlare oltre agli aiuti per la ricostruzione dell'Ucraina a seconda di quello che sarà il governo russo anche agli aiuti per la ricostruzione dell'economia russa. perché noi non vogliamo che diventi una colonia cinese. E' contro il nostro interesse come era il contrario agli interessi americani nel 1945 che noi diventassimo una colonia russa. Il nostro interesse è che la Russia si risollevi. La parola di Lukashenko servono a distrarre truppe ucraine da essi fin dall'inizio della guerra. Tutte le mosse della Bielorussia servono semplicemente a tenere un po' di truppe lì giusto per dare un aiuto passivo. Io vedo questo pericolo qui perché i russi poi comunque hanno un forte senso nazionale magari pur di salvare... lui ci ha messo nei casini però qui c'è da salvare capra e cavoli. e secondo me lui sta giocando molto su questo la spersonalizzazione della guerra da una guerra sua a una guerra della Russia e il tentativo di assimilare le regioni e proprio di dire ora questa è Russia e quindi non ci si può esimere dal difendere la madrepatria o una cosa del genere. Non sta funzionando. Nel senso sta funzionando parzialmente il fuggi fuggi c'è bisogna vedere quanti di quelli che vanno ad arruolarsi perché ci sono anche i volontari eh? Non ti credere. Sì. Ci sono anche un po' di volontari ci sono quelli fissati per carità. Tanto il fatto che i volontari vengono pagati meglio eh. Eh. Quindi a questo punto ti conviene anche visto cosa succedeva. Però ieri ho letto un articolo molto interessante sulla CNN che ha mandato dei reporter vedete cosa sta succedendo in Kazakistan. Il Kazakistan è in assoluto il punto dove stanno scappando più russi. E la cosa che era interessante, che almeno io ho trovato interessante, è che non solo stanno scappando russi individualmente, ma ci si stanno letteralmente trasferendo intere ditte. Stanno mandando completamente tutti i loro dipendenti in Kazakistan a lavorare lì. noi continuiamo a pagarvi, voi continuate a fare il vostro lavoro, risiedete lì così nessuno vi recluta. E questa è la prima metà. Questa è anche un'occasione per questi paesi eh. Sfruttare, portarsi anche personale qualificato, persone con un certo livello di expertise. e li sta aiutando molto. L'altro aspetto che ho trovato interessato è che se parecchi di questi individui che sono arrivati individualmente intervistati ma adesso che cosa farete? Uno dopo l'altro tutti quanti dicevano la stessa cosa. Cercheremo di ottenere un visto Schengen. Il loro posto di approdo è l'Unione Europea. questa non è gente che odia l'Occidente. Ci sono anche quelli che odiano l'Occidente. Ma c'è una grossa fetta di Russia, soprattutto giovane, che non si beve più la storia secondo l'Occidente ci vuole strappare tutto. Sono quelli che pensano ma noi siamo Occidente. Esattamente come lo sono diventati i polacchi, lo vogliono diventare gli ucraini. Lo siamo diventati noi stessi, che originariamente eravamo altri. quindi la mia speranza è proprio quella che ci sia una grossa fetta produttiva e giovane di russi che invece semplicemente vogliano la pace, vogliano una convivenza tranquilla e normale con noi, vogliono una rapacificazione, che chiaramente non vogliono essere umiliati. E' attraverso loro che noi dovremmo convogliare il messaggio che nessuno vi vuole togliere niente. semplicemente vi vuole essere impedito di togliere voi qualcosa da altri. Ci vuole un po' di soft power, nel senso se i paesi del blocco est, parlo di Polonia, Estonia, Lettonia, Lituania, eccetera, sono entrati senza nessuna coercizione, ci hanno fatto di loro volontà, è perché evidentemente hanno visto che di là l'erba è più verde e quindi lo fanno su base, insomma, spontanee, su scelte di popolo. Evidentemente vedendo quello che ha fatto Putin, beh, se addirittura, lo dico, perché poi dico, ah no, se è filo russo, se è filo americano, no? Nessuna delle ex repubbliche sovietiche, neanche quelle che sono rimaste alleate molto vicine alla Russia, ha riconosciuto le richieste territoriali russe. Nessuno è coloro, a parte la Bielorussia e la Corea del Nord, e neanche la Bielorussia l'ha fatto, solo la Corea del Nord. Questo già ti dovrebbe dire qualcosa. Se neanche gli alleati più stretti e che hanno dei rapporti, che potrebbero essere anche minacciati, perché ricordiamoci che i kazakhino in questi posti qui dipendono comunque anche molto dalle comunicazioni e dall'import-export con la Russia, neanche loro li supportano. Ma il kazakhistan ha una grossa fetta di territori settentrionali popolati da russi. Dal punto di vista del kazakhistan, i prossimi siamo noi. Ecco, guarda, siccome ci chiedono di dare un occhio alla mappa, come la vedi l'offensiva che è avvenuta su Kherson, che ha mangiato un bel pezzo di territorio? Soprattutto ti ricordi la fascia Nord, l'altra volta avevamo parlato shaping the field, cioè di selezionare e diciamo modificare il terreno dove vai a operare, che è quello che hanno fatto gli ucraini col settore Nord, e poi vedi che avevamo ragione, perché poi si è visto che è lì che è avvenuta la penetrazione ucraina ed è lì che hanno fatto i guadagni territoriali più grandi. Le teorie sono, fa parte del ritiro concordato o è una vera penetrazione ucraina? E qual è l'obiettivo primario? Io mi sono permesso di mettere delle direttrici, perché ovviamente ci sono delle unità esposte russe praticamente in questo saliente e secondo me l'obiettivo è Novakakovka. Non c'è dubbio. L'obiettivo è Novakakovka, ma questa non è secondo me un'offensiva. Continua a essere quello che era originariamente, è un fissaggio molto pesante, è un fissaggio di successo, condotto ai danni di forze in debito d'ossigeno, che adesso lo saranno ancora di più, adesso praticamente combattono in apnea, ora che la ferrovia del ponte di Kerch è saltata. È già operativa, è tornata già operativa la sera. Ma guarda, non so con quanti ingegneri hai parlato tu, a parte che avevano detto che era tornata operativa già la sera e il giorno dopo si è visto che il treno era ancora lì. No, ma ci sono due linee lì. Due linee di treno. Solo che... La ferrovia è operativa comunque, me lo confermo tutta la sera. Gli ingegneri con cui ho parlato io mi hanno detto che sì, sì, è operativa per adesso. Solo che... No, no, io dico per ora, poi se l'hai colpita una volta la puoi colpire due volte, tu andresti a rischiare lì a portare equipaggiamento di un certo livello? No, ma dicono che anche senza colpirla una seconda volta, e il cemento armato di quella campata è compromesso. Guarda tu. La temperatura di 900 gradi... Eh, lo so, ha modificato il livello strutturale. L'acciaio lo ha fuso. E fin lì ancora ancora. Dopo sono arrivati gli elicotteri con l'acqua fredda e lo hanno raffreddato di colpo. Quello che c'è lì dentro, se c'è ancora dentro qualcosa, non è più acciaio e ferro con bolle di carbonio intorno, e non fa più l'attività di trazione che dovrebbe fare l'acciaio all'interno del cemento armato. Le vibrazioni dei treni che ci passano sopra... Eh, col tempo. È questione di tempo. Allora, io vi do un piccolo scoop, eh. Io sono in parlamentazione con Danilo Coppe. Per chi non sa chi è Danilo Coppe è quello che ha fatto saltare il ponte Morandi. Ok? Perché gli ho chiesto, guarda, se ti mando video, materiale, foto, eccetera, se riesci a fare quello che puoi, eh. Nel senso, a livello di consulenza per vedere l'analisi strutturale. E stiamo cercando, da fonti russe a fonti ucraine, se si riesce a trovare qualche informazione in più sul materiale che è stato utilizzato, qualche schema produttivo, perché lui avrebbe bisogno di quello per capire, insomma, che materiali non hanno utilizzato e cose del genere, per fare una ponderazione da parte sua. Se ci riusciamo, se riusciamo a trovare i materiali, io inviterò l'ingegnere esperto di esplosivi che ha fatto saltare il ponte Morandi, che siamo, insomma, uno dei più qualificati in Italia proprio per fare questo genere di analisi. Piccolo scoop. Quello che è significativo è che sono rientrati nuovamente in servizio i traghietti sulla tratta per l'isola di Taman-Kerch in sostituzione al ponte. E questo è molto indicativo. Loro per primi non si fidano più del ponte. Quindi le forze che stanno nella testa di ponte sono veramente con l'acqua alla gola. Lo erano prima, adesso è peggio. E non hanno scelto, non credo, non è stata una rotta. Hanno ripiegato, hanno anche ripiegato un ordine. Ma d'altra parte sono anche il meglio dell'esercito russo, sanno come combattere. Se resistiamo a questo attacco, abbiamo un consumo di munizioni di carburante tale che restiamo secco, è meglio ripiegare su una posizione più difendibile, più corta. e hanno ripiegato. Quindi questo qui è un fissaggio che ha avuto molto successo, in cui il comandante del comando sud ha ritenuto di impiegare le sue riserve corazzate, la sua riserva corazzata, perché non avevo soltanto una, in un'azione più decisa, l'ha fatta, l'ha interrotta giustamente prima di subire troppe perdite, ha ricompattato i russi su un fronte più corto, il vantaggio per gli ucraini è che adesso i ponti sono tutti quanti agittati delle artiglierie convenzionali, il vantaggio per i russi è che il fronte si è accorciato e il fissaggio continua. Non è avvenuto nessun vero sfondamento. Sì, bene o male, anche perché più sul fronte si contrai, più il numero di unità per chilometri quadrati aumenterà e quindi sarà sempre più difficile ottenere uno sfondamento. Certo, manca poco e sono veramente spalle al fiume. Stiamo parlando di... È questione di tempo. ...i 20 e i 30 chilometri sono spalle al fiume, quindi non manca molto. E per loro l'obiettivo politico dei russi è mantenere l'invaso idrico più che Kherson. Kherson ha una valenza molto inferiore, anche se ci si fisa, la chiamiamo l'offensiva di Kherson, eccetera. Io la chiamerei l'offensiva di Novakakovka. Scopo fondamentale è quello. Se gli ucraini arrivano a prendere Novakakovka, intanto se prendi Novakakovka, Kherson la mollano, de facto, perché non serve più a niente. e quindi già... Se prendi Kherson, Novakakovka, i russi l'avrebbero difesa comunque. Invece se prendi Novakakovka, Kherson perde praticamente di qualsiasi valenza strategica. e quindi puoi ottenere due piccioni con una fava con questa mossa qui. Te credi che sia finito il momentum, il momento propizio, o credi che ci sarà un altro crollo in questa zona, un'altra spallata ucraina prima che la stagione utile finisca? Il momentum è una cosa molto complessa e non penso che sia finito in quanto tale, ma non è dovuto più tanto alla manovra e alla pressione ucraina quanto agli sviluppi logistici russi. Molto dipenderà da quanto sarà freddo l'inverno. Perché se è un inverno rigido e cominciano a muoversi blocchi di ghiaccio sul fiume, i movimenti delle zattere diventano praticamente impossibili e il rischio di cadere in acqua diventa letale e anche quei pochi rifornimenti che passano adesso vengono colpiti con molta maggior facilità dall'artiglieria a lungo raggio. Se l'inverno è mite questi problemi non si verificano e le necessità logistiche sono inferiori e i russi potrebbero riuscire a durare più a lungo. Stiamo parlando soltanto della sacca di Kerson ovviamente. Secondo me la sacca di Kerson può resistere anche tutto l'inverno. più probabilmente per metà inverno. Sicuramente resiste la prima rasputizza e poi veramente bisognerà vedere come se la cavano durante la parte più fredda dell'inverno. In primavera non hanno scatto perché a quel punto saranno gli ucraniani essersi rinforzati mentre la testa di ponte non è rinforzabile ulteriormente. Prima o poi la testa di ponte la devono mollare. Sono d'accordo che cercheranno disperatamente di tenere la diga o quantomeno il loro lato della diga per i motivi dell'acquedotto. Ma il momentum ucraino non è tanto lì che si manifesta quanto adesso nell'oblast di Lugansk. bisogna vedere quello che riusciranno a fare nel settore di Svatove in particolare e se riescono a raggiungere la famosa linea di attestamento che è l'obiettivo massimo che si possono porre gli ucraini la linea azzurra più a destra oppure dove riescono ad arrivare nel loro movimento. Sì perché al momento hanno rallentato molto eh cioè avevano avuto un'accelerazione e poi dalle parti il movimento è rallentatissimo e comunque lo sforzo logistico per portare avanti le linee per gli ucraini è molto pesante. C'è anche una strozzatura in questa zona eh diciamolo. Qui c'è una zona con dei laghi e subito dopo che erano passati dopo lì tutte queste unità si sono incuneate praticamente verso una zona che non è facile da passare sarebbe questa zona qui eh Sono anche ricevuto aiuti dalla resistenza nei villaggi della zona che però adesso è un aiuto molto minore perché essendo terreno aperto eh le forze russe non hanno avuto problemi a eh a disperdere eh questi elementi della resistenza quindi adesso devo guarda caso sono bloccati in questa zona qui dove ci sono tutti questi laghi perché le zone dove puoi passare sono veramente strette cioè si parla di 2,5 chilometri per dire in questa zona di laghi dove tu devi passare certo se sfondano qui poi è tutta pianura eh eh però comunque pianura fangosa quindi comunque in questo momento è eh eh diventa sempre più complesso eh quindi non so se riusciranno a raggiungere quella linea la vera sfida in questo momento è quella se raggiungono la linea sarebbe fondamentale perché se la raggiungono in Italia questa strada questa strada è molto importante per i rifornimenti russi questa è una strada che praticamente porta quasi tutti i rifornimenti come si può vedere nella zona di ehm Severodonetsk il Lugansk eccetera quindi se riescono a tagliare anche quell'arteria beh ci sono grossi problemi eh assurdo ritorno a dire solo da sud eh diventa problematico per per i russi ovviamente difficile passare l'inverno ho parlato ultimamente giusto stamani vedevo che si sta combattendo nella vecchia fabbrica ehm quella all'angolo la famosa fabbrica eh che si trovava praticamente fuori ehm dall'Isichansk quella di una volta gli ucraini si erano assestati per tentare di fermare i russi quindi sono gli ucraini sono molto vicini sono praticamente a due chilometri e mezzo tre chilometri dall'Isichansk al momento però secondo me non proveranno neanche a entrarci ci possono solo avvicinare perché anche perché poi c'è il fiume è abbastanza difficile prenderla e poi attaccare Severodon allora non conviene aggirare e costringerli a ritirarsi la girano da nord in generale gli ucraini hanno sempre evitato eh operazioni offensive in aree urbane innanzitutto perché sono le loro aree urbane e non le vogliono danneggiare ulteriormente in secondo luogo perché sanno che portano perdite molto gravi e perché dare ai russi questo vantaggio se è più facile avvolgerli hanno già fatto quell'errore a Severodonovski i russi gli ucraini è stato l'errore più grosso che hanno fatto finora sì perché li hanno si sono incuneati in una cosa politica che non aveva più senso e queste unità servono lo dico tecnicamente non a fare una vera e propria offensiva ma a tenere ferme quelle unità russe che non si possono sganciare quindi se la vera offensiva a nord esatto e li fissa lì così la vera offensiva a nord li costringe a poter tirarsi molto velocemente e magari in maniera anche disorganizzata lasciando anche molto equipaggiamento perché ricordiamoci dietro c'è il fiume ehm Severski che ha quei ponticelli che puoi distruggere facilmente e quindi se loro hanno equipaggiamento pesante da queste parti devono ritirarsi di botta perché a nord crolla beh le cose pesanti le mollano non credo che spingeranno più di tanto li terranno fissati e cercheranno di avvolgere tutto da nord in modo da strangolarli durante l'inverno di nuovo logisticamente l'idea è quella bisogna vedere se riescono a fare tutto l'avvolgimento e il fango glielo permette allora il grosso problema degli ucraniani è che questa offensiva qui corrisponde in tutto e per tutto alla nostra dottrina se non fosse che manca la componente aerea completamente che avrebbe accelerato il tutto moltissimo riceverebbero i rifornimenti che riceverebbero gli elicotteri e il fuoco contro le unità nemiche verrebbe dal cielo e non dall'artiglieria posta alle spalle e sarebbe tutto molto più veloce ecco questa è una domanda interessante siccome ci sono le elezioni di mid-term eccetera c'è la paura che con Trump se mai verrà ci sarebbe un cambio di direzione secondo me Biden sta anche blindando il supporto americano verso gli ucraini con dei contratti a lungo termine cioè degli impegni presi che dureranno un bel po' quindi anche se dovesse cambiare qualcosa ormai abbiamo promesso che nei prossimi due anni rimanderemo questo e quello quindi anche se arriva lui insomma non può fare grossi cambiamenti anche se io dei grossi dubbi se verrà riletto il problema è che dall'altra parte non mi pare che ci sia un un papabile da rieleggere ecco quello è il loro problema più grosso no, non credo di andare che correrà di nuovo ed è molto difficile per ora capire chi sarà il prossimo candidato democratico francamente è dubito che il prossimo candidato repubblicano sia Trump io francamente scommetterei molto più su De Santis ma il punto fondamentale è che le elezioni adesso sono quelle di mid-term sono per senato e camera dei rappresentanti non per il presidente quindi l'aspetto Trump è meno fondamentale Biden sta molto premendo sul fatto che il supporto all'Ucraina è bipartisan anzi diciamo che i repubblicani sono più radicali dei democratici in termini di volontà di supporto quindi in teore non vedo come eventualmente un possibile successo repubblicano andrebbe a detrimento della cooperazione con l'Ucraina semmai il contrario è vero che Trump lui personalmente continua a ripetere che eh bisogna subito fare la pace con Putin eh qui adesso non entro nella politica interna degli Stati Uniti eh però eh la posizione di Trump è in questo diverge dalla quasi totalità del partito repubblicano quindi quello che dice Trump in questo momento sull'Ucraina non credo che sia particolarmente importante è importante per la politica interna degli Stati Uniti ma quelle sono cose loro e io non c'è ok era giusto perché tanto la domanda insomma girava e quindi eh ce la siamo tolta qui chiedono aspetta chi recupera le domande vabbè qui ci chiedono lei come finirebbe la guerra domanda uno se lo sapessimo non lo diremmo a te no è è veramente semi impossibile trovare una soluzione soprattutto in questo momento dove le posizioni sono così blindate da una parte dall'altra quindi secondo me se arriva al collasso di una parte proprio per resa per spinimento eh ci arrivi secondo me non so se eh Giorgio te hai un un'opinione differente ci sono come la vedo io ci sono due piste parallele una è quella puramente militare e l'altra è quella eh più strategica eh che riguarda la tenuta dei due rispettivi governi eh quello ucraino non sembra il rischio lo stato attuale delle cose mentre quello russo è eh un rebus non sappiamo esattamente cosa sta succedendo dentro il il regime eh facciamo un sacco di supposizioni vediamo un sacco di personalità al lavoro ma chiunque eh millanti di sapere cosa sta succedendo lì dentro mente non lo sa nessuno e non lo sa neanche Putin quindi eh è impossibile fare una previsione il fatto è che per come la vedo io la mia opinione è che eh la caduta del regime russo attuale di della persona in particolare di Putin è purtroppo diventata una condizione imprescindibile per avere la pace perché Putin ha messo le cose in modo tale che lui o vince o muore e siccome non credo che possa vincere lui deve per forza uscire di scena e secondo me il punto è che eh chi gli sta intorno se ne sta rendendo conto sempre di più chi gli sta intorno deve decidere se gli conviene continuare la guerra oppure gli conviene una pace non vittoriose è una scelta eh molto difficile per personalità di regime e dipenderà da come si metteranno d'accordo tra di loro eh sul comandarla a finire la pista militare nella sua progressione eh eroderà sempre di più eh la stabilità del regime perché eh per come la vedo io eh gli ucrani continueranno a fare vantaggi eh ad avere la meglio anche nei prossimi mesi e secondo me in primavera lanceranno veramente una controppensiva che potrebbe raggiungere i confini nel momento in cui raggiungono i confini gli verrà impedito di attraversarlo quindi se non sarà ancora crollato il regime avremo un conflitto bloccato lungo i confini internazionali e questo di nuovo farà vedere ai membri del regime che eh è una situazione senza scanto siamo sotto sanzioni non possiamo vincere eh non ci permettono neanche di perdere dobbiamo per forza fare qualcosa noi eh per me prima o poi Putin cade non cade il regime in quanto tale ma cade Putin sì lì faranno un come come facciamo noi un rimischione una soluzione russa eh daranno tutta la colpa a Putin hai presente il gioco della sedia prego il gioco della sedia ci sarà un balletto e qualcuno si troverà senza sedia e mi sa che sarà Putin eh questo è il modo con cui i russi fanno queste cose eh ci diranno che è malato che ha stress eh scomparirà per un mesetto poi lo vedremo che va tutto bene diranno questo è il il sostituto che poi è quello in verità che hanno scelto insomma gli oligarchi e i militari eccetera e la situazione sarà quella quello si si rivenderà come pacificatore o cosa del genere perché nessuno vuole incamerarsi la la sconfitta la sconfitta se la deve incamerare Putin sarà solo colpa sua tutto dovrà essere colpa sua e converrà a noi che sia così per questo dicevo prima non bisogna dare la colpa al popolo russo e neanche i dirigenti ci bere ci beremo la balla anche noi perché ci conviene a tutti quanti eh ricorda quella vecchia barzelletta del del presidente russo che diceva quando diventi presidente devi scrivere due lettere praticamente eh dice quando avrai problemi troverai due lettere sul sul tavolo no? e quindi il presidente russo ha dei problemi interni va e apre questa lettera ecco nella prima lettera c'è scritto ehm in caso eh problemi dai tutta la colpa a me cioè al presidente precedente se invece la situazione diventa intollerabile apri la seconda lettera lui apre la seconda lettera e c'è scritto scrivi una lettera perché funziona così cioè bisogna sempre scaricare un altro e apri la finestra ecco eh che è quello che hanno detto a Shoigo eh non so se hai visto cosa ha detto il governatore della zona di Kherson eh governatore insomma russo che hanno detto che Shoigo farebbe bene a spararsi in bocca c'è vecchio stile eh insomma dei generali russi no? di togliersi dai mh dai problemi guarda io vorrei concludere con alcune considerazioni sul mondo cinese perché comunque le elezioni che ora avverranno del commentato centrale sono abbastanza importanti io ora sto un po' seguendo ho fatto l'altro giorno una live con Elia Morelli su Parisia un collaboratore di eh Dario Frabi proprio sulla sulla Cina perché era interessante vedere ma quando era interessante vedere proprio il discorso del di queste elezioni per vedere uno se Xi Jinping riesce addirittura a centrare ancora di più il potere prendendo la vecchia carica che fu di Mao di presidente del partito insieme a quelle che ha già o se dovrà delegare alcune delle sue cariche a alcuni suoi delfini questo vuol dire che ha dovuto mollare un po' il colpo e dare un po' spazio ad altri perché c'è tutta una procedura complicata in Cina dove praticamente eh quando fanno questa cerimonia si mettono in fila salgono tipo una scalinata eccetera e a seconda della posizione di ogni personaggio è già praticamente la scala del potere ecco quindi se vedremo Xi Jinping in cima e dietro ci saranno alcuni della sua cricca perché ci sono alcuni che sono proprio i suoi invece ce ne sono altri eh di altre zone si capirà se lui ha tenuto botta e addirittura ha centrato ancora di più o se ha dovuto cedere un po' di potere e questo è importante per Putin perché lui ha un rapporto molto stretto con eh con Xi Jinping non con altre frange cinesi che stanno cercando di allargarsi addirittura da anche fastidio che Xi voglia prendersi un terzo mandato che è una cosa abbastanza eh scomoda quindi questo è importante soprattutto per i russi per vedere se eh cambia la il punto di vista perché se dovesse salire qualcuno o Xi dovesse perdere un po' di potere beh già sono molto distanti dai russi si distanzierebbero ulteriormente te cosa ne pensi di questa cioè quanto ritieni rilevante quello che succede in Cina rispetto alle decisioni il fatto che ci sia il eh il congresso del partito comunista cinese adesso è uno dei motivi per cui eh un escalation nucleare adesso è assolutamente fuori questione perché eh sarebbe un problema per Xi un problema così grosso per Xi che eh probabilmente gli andrebbe veramente male il congresso eh l'altro punto è eh per la Cina effettivamente è un dilemma strategico perché per la Cina la Russia è indispensabile in quanto è il provider dell'ombrello nucleare l'ombrello nucleare cinese è piccolissimo non vale per eh sfidare l'America per sfidare l'America occorre l'utilizzo dell'ombrello russo e se la Russia cade se il governo il regime di Putin cade e il governo russo nuovo si dovesse avvicinare all'occidente la Cina rimane senza ombrello russo d'altra parte anche se l'economia russa collassa occorre un'economia relativamente forte per mantenere un ombrello nucleare quindi anche il prolungamento della guerra non va bene alla Cina soltanto guardando la Russia poi ci sono tutti quanti i problemi a cascata dell'economia mondiale che danneggiano la Cina quindi io francamente non so quanto sicuramente a Putin piace Xi e non sono convinto se Xi Jinping è molto contento sia molto contento di Putin in questo momento il problema è che non può neanche abbandonarla perché se la Cina abbandonasse la Russia in questo momento la lasciasse sola la Russia sopravvivrebbe ancora un po' ma non so quanto a lungo perderebbe praticamente ogni forma di supporto internazionale praticamente chi qualunque supporto riceve ancora Putin è il supporto di chi dice ma ha la Cina con sé quindi non crede che si le vogliono assorbire? il dragone si mangia l'orso si compra anche la sua tecnologica quello è il problema dell'indico termine i cinesi a differenza di noi purtroppo e ancora più a differenza dei russi ragionano decenni in avanti non alla prossima elezione quindi il loro programma perché non è neanche un progetto è un programma di assorbimento della Siberia ce l'hanno già in atto ma non è un programma che prevede sta avvenendo a livello demografico esatto demografico economico sociale culturale non militare anche quando avverrà la penetrazione militare non avverrà con unità dell'esercito ma saranno unità di polizia privata prima di polizia regolare dopo di sicurezza in generale un bel giorno i russi semplicemente gli verrà detto arrivederci tornatevi a casa e loro saranno già completamente spiazzati nel programma cinese quindi quello comunque proseguirebbe diventerà un problema nostro probabilmente ma è qualcosa che vedremo tra una ventina d'anni non adesso il problema è che i cinesi non vogliono che la russia semplicemente diventi occidente così come noi non vogliamo che diventi cina in realtà il gioco della caduta del regime di Putin è un gioco tra occidente e cina ed è lì che abbiamo le nostre carte migliori perché non riesco a immaginarmi quale russo preferirebbe essere suddito della Cina piuttosto che una delle nazioni dell'occidente si qui ci chiedono come mai non i russi non distruggono i ponti sul Dnipro intanto ci hanno pensato gli ucraini sulla parte di Kherson si io non ho mai capito perché non hanno distrutto quelli per esempio a Dnipro, Zaporizia Kremlin aveva molto senso per rovinare la logistica ucraina per andare a rinforzare il Donbass non lo capiremo mai ora non credo che non è difficilissimo distruggere un ponte si è abbastanza beh l'abbiamo visto anche per gli ucraini con gli Imars ci hanno messo due mesi eh martella 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 e sono ancora lì eh cioè ogni tanto non sono crollati non sono crollati riescono ancora a passare con mezzi abbastanza leggeri e comunque sono a distanza abbastanza breve con missili daerei con missili balistici colpire un ponte ti ricordi cosa è successo quando hanno cercato di colpire il ponte a eh Kremenshuk Kremenshuk che mi sbaglio sempre hanno preso il centro sì perché un po' più a nocce zaporizza di Kremenshuk anche perché l'unica unica volta che è stato colpito era proprio quella volta lì quindi era era abbastanza particolare allora uno degli obiettivi colpiti ieri era proprio il ponte di cristallo no? e non è che lo hanno colpito ci sono andati molto vicini esatto allora non so se c'è ancora qualcos'altro che possiamo sviscerare eh guardo se c'è qualche domanda pertinente eh beh questo è abbastanza interessante ci può essere un'altra risposta? cioè ponte, missili, risposta è uno dei vantaggi del eh del fatto che gli ucraini hanno l'iniziativa in questo momento è che loro invece di andare eh invece di giocare a scacchi tu fai la tua mossa io faccio la mia mossa e rispondo in base alla tua e il comando ucraniano secondo me ma ne sono ne sono convinto non è una non è un'ipotesi ha un piano ben preciso ha un programma eh di operazioni che sta seguendo e eh ha un calendario di eh operazioni da portare a termine in particolare per quel che riguarda il targeting cioè il colpire in diverse maniere obiettivi in profondità ben mirati, ben prescelti in maniera pianificata e eh in modo da massimizzare eh gli effetti eh sul nemico l'attacco al ponte eh di ieri è sicuramente parte di questo programma non è una cosa che hanno fatto così ma ok andiamo col ponte no era previsto in questo periodo nella prima metà di eh di ottobre colpiremo il ponte e colpire il ponte è soltanto parte di una pianificazione chiaramente volta soprattutto a strangolare i rifornimenti russi eh non credo che eh gli ucraini andranno a compiere un'azione in risposta a quello che hanno fatto i russi oggi loro semplicemente andranno avanti col loro piano e sicuramente colpiranno altri obiettivi collegati in qualche modo al ponte in maniera logica probabilmente azzardo io altri punti deboli delle ferrovie eh russe che portano i rifornimenti al sud o eh sì molto probabilmente anche da quella parte lì il eh qualunque eh sarà questo attacco non dovrà essere visto come una risposta a quello che hanno fatto i russi oggi ma semplicemente come parte di un programma in atto perché loro hanno l'iniziativa e sono i russi a rispondere a tutto quello che fanno gli ucraini e il grosso vantaggio di chi nutrendo un eh momentum positivo è riuscito ad acquisire l'iniziativa e costringe l'avversario a rispondere a ciò che fa sì dicevo se non ci arrivano fisicamente quella linea azzurra eh la dovranno colpire quindi eh andrà andrà così beh io direi che abbiamo detto particolarmente tutto anche perché io devo partire stanotte alle sei del mattino in treno quindi vado dalle parti di Monte Carlo insomma quindi poi devo tornare devo tornare la stessa sera e il giorno dopo verrà Parsi a mezzogiorno quindi puoi immaginare giovedì anzi giovedì no venerdì verrà Marco Bussi quindi insomma poi poi non lo sai mai a volte la radio ti chiama sai tipo è disponibile quando domani no no fra 20 minuti si si ti chiamano così ti fanno gli agguadi quindi non è nemmeno organizzato per certe cose eh sì allora io ti ringrazio tantissimo per per questa fantastica live per aver sviscerato tantissimi temi anche perché la gente è affamata vuole un po' di rassicurazione insomma non è che finirà tutto domani io lo dico sempre e anche se fosse sì io sono sempre positivo eh tanto non ci possiamo fare niente non è nelle nostre mani quindi inutile preoccuparsi di qualcosa su cui non hai eh controllo intanto volevo segnalare il record del canale l'abbiamo fatto con te Giorgio 5600 in eh più di 5600 in in contemporanea che è un nuovo record quindi eh grazie a tutti voi grazie tantissime al colonnello Giorgio eh stirpe e alla prossima su Parabellum buonanotte a tutti arrivederci buonanotte ciao Mirko